Lo spettacolo che portate in scena? No, è la trucca. Si chiama Naufragi di Don Quixote, è scritto da Massimo Bavastro. Ci sono un po' tutti gli incontri che fanno Don Quixote rivisti in chiave moderna. Nei personaggi che interpretate, cosa ritrovate che vi appartiene? A me personalmente il fatto che sono abbastanza deficiente, e questo mi appartiene parecchio. Vale anche per me, sì, un consiglio a Gigio per il suo futuro, un po' più di sano ottimismo nell'affrontare la vita. Non mi direi che sei paranoico come nel personaggio di Allora Mambo? No, non a quei livelli, però sulla strada diciamo. Che consiglio dare a Mario, un po' più di grinta, un po' più di impegno, un po' più di darsi da fare. E allora tutti e due date un consiglio ai giovani ragazzi che vogliono intraprendere la vostra strada. Oh, lo stesso che hai dato a Mario, che è un giovane ragazzo, un po' più di impegno. A essere se stessi, non adeguarsi a qualche modello, non cercare di riprodurre delle cose che non siano loro, cercare di capire chi sono e darci dentro il più possibile in quella direzione. Insomma, poi so che non vuol dire niente. Gigio? No, beh, mi aggrego assolutamente al consiglio di Mario. Questa è la tecnica di chi risponde per secondo. Tutti quanti si aggregano al primo. Qualunque risposta di al primo è... È un mestiere dove ci si perde facilmente. Ci si perde anche facendo le cose in cui uno crede, che gli piacciono, eccetera. Se segui delle strade magari per convenienza, perché in quel momento lì ti sembra la via per arrivare a qualche cosa, che magari non sono delle cose che ti convincono fino in fondo, poi alla fine siccome le cose ti rimangono appiccicate, perdi delle cose tue, certo, crearsi una strada è di solito più difficile perché non è che la gente ti apre gli spazi facilmente, anzi tende a chiuderteli se può, ma credo che sia l'unico modo per divertirsi anche facendo questo mestiere, se no sono solo botte in testa, insomma. Un'unico alla tua totale per vedere come ci si riduce a fare gli attori professionisti. Non scherzare. Grazie mille. Grazie a te. Grazie a te.